Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagnetto Carducci. Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagnetti. Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagnetti. Voi operate come volontari in questa zona dei Monti Pisani. Con il vostro supporto siete riusciti a dare il vostro aiuto nei momenti difficili. Per esempio, uno fra i tanti, il grande incendio del 2018, ma anche l'anno successivo. Voi siete stati sempre presenti su questo territorio per dare il vostro aiuto e la vostra esperienza. Sì, noi siamo presenti sul territorio del Monte Pisano, su Vico Pisano in particolar modo perché siamo del gruppo di Vico Pisano, però facciamo parte di un coordinamento che parte da San Giuliano e arriva fino a Buti. Quindi tutti gli incendi che riguardano il Monte Pisano noi ci siamo. Loro ci hanno portato con le loro auto qua su, volevamo essere proprio in un punto strategico. Noi siamo fra i comuni di Calci e Vico Pisano. Siamo in un luogo che ci permetterà di parlare di tanti aspetti diversi della natura, della storia, ma anche di quello che è lo sviluppo. Lo sviluppo sostenibile a livello urbanistico grazie a una sorta di partnership fra i due comuni che vi ho menzionato, uno da una parte e uno dall'altra, rispetto alla verruca su cui ci troviamo. La Val Graziosa si chiama questo luogo. La Val Graziosa, sì, la parte di Calci. Un luogo fatto di terrazzamenti, di olivetti, insomma naturalmente è magico poterli visitare. Arrivare qua su magari è un pochino più difficile. È più difficile, però una volta arrivati ne vale la pena. Una volta arrivati ne vale la pena. Buon lavoro davvero e grazie per averci aiutato a realizzare questa puntata della Pisaniana. Buon lavoro. E com'è andata quest'estate al volo? Diciamo per ora bene, stiamo un po' perdendo colpi alla fine, c'è qualche incendio di troppo alla fine. Perché la regione ha dato il via proprio ora al brusamento. Sì, per ora ha rinnovato il decreto fortunatamente, ha prolungato, quindi ci siamo messi un po' più al sicuro. Grazie davvero, grazie ai fratelli del Moro e in questo caso ad Alessandro Carta che è anche un suo fratello che ci ha aiutato a arrivare fino a qua. Il microfono lo do al sindaco Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci. Buonasera, ben ritrovato. Noi non siamo in diretta, l'avrete capito, ma ci fa piacere parlare. Buonasera per voi anche che ci state seguendo. Grazie Massimiliano Ghimenti. Buonasera a tutti. Matteo Ferrucci accanto a lui, sindaco di Vico Pisano. Buonasera Ferrucci. Buonasera, buonasera. E ancora Andrea Bertolini, sovrintendenza alle Belle Arti, Pisa e Livorno, delegato per quanto riguarda il Monte Pisano, quindi esperto proprio di questo territorio. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E torna un amico della Pisagnana, il professor Marco Macchia, docente di chimica farmaceutica, ma qui è presente in qualità di delegato del rettore per i rapporti col territorio dell'Università di Pisa. Buonasera professore. Buonasera e buonasera a tutti. E allora, perché abbiamo voluto realizzare questa trasmissione, a parte tornare su un territorio che ci sta molto a cuore e che vorremmo che il nostro pubblico, che non è soltanto pisano, a dispetto del nostro nome, la pisaniana, del canale su cui andiamo in onda, che parte da Pisa, 50 canali, ma che si estende in tutta la nostra regione, vorremmo che tutta la Toscana conoscesse bene questo territorio e quello che c'è in progetto, soprattutto per questi due comuni di cui oggi parliamo, Calci e Vicopisano. La pianificazione, nuovi strumenti urbanistici dei due comuni, per far sì che ci sia uno sviluppo dal punto di vista urbanistico, ma sempre nel rispetto dell'ambiente e valorizzare, insomma, tutto quello che è il tesoro architettonico e naturale, paesaggistico, ma sempre appunto in quel rispetto che è dovuto, ma che è anche richiesto da tutte le norme a livello comunitario anche e tutte le novità in fatto di rispetto dell'ambiente. Insomma, parliamo proprio innanzitutto di questi due territori e di come è andata la stagione. Sindaci, l'estate è finita, siamo nel periodo autunnale, insomma, abbiamo parlato di incendi, purtroppo perché è tristemente nota la vicenda degli incendi terribili sui Monti Pisani, però ecco, come è andata in questo 2023 l'estate, il grande caldo? Cominciamo con Calci. Ma allora, l'estate è andata, appunto, hanno già detto dal punto di vista degli incendi, è andata abbastanza bene, anche se adesso, insomma, c'è stato qualche problema e la regione ha, lo approfittiamo perché fino al 22 di ottobre in questo momento è stato rimesso il divieto di abbruciamenti e questo è un aspetto importante, però l'estate del nostro territorio, intesa come estate di presenze, presenze turistiche, le presenze in piazza con i grandi eventi, abbiamo fatto un bilancio, insomma, sicuramente è stata un'estate molto positiva. Sono lontani, per fortuna, i dolorosi ricordi del tempo del Covid, dove ci veniva impedito qualsiasi spostamento, per fortuna si è ripartiti e il territorio ha ricominciato a macinare con numeri, appunto, che segnano la crescita, la crescita in termini di visibilità che il nostro territorio ha avuto. Per notamenti, ristoranti, attività quindi ricettive, visite ai musei che sono ritornate sia al complesso monumentale che al Museo di Storia Naturale sono tornati a quelli che erano appunto i numeri pre-Covid, quindi siamo sicuramente molto soddisfatti. Assessore, sindaco, per quanto riguarda Vico Pisano, poi parliamo invece di un assessore che è collegato con noi e con il nostro Fabrizio Dell'Aiuti per parlare di un progetto che vi riguarda. Sindaco? Sì, confermo quanto ho detto dal sindaco Grimenti, da Massimiliano, ottimi dati. Mi piace molto che, se ne parlava prima, il discorso del marketing a livello turistico del Monte Pisano funziona sempre di più. Io sono molto contento quando mi dicono che ci sono ottimi dati a Calci, a Buti, a San Girono, perché se vincono loro, anche noi vinciamo tutti insieme. Questo è un territorio, lo dico sempre e lo continuerò a dire in ogni occasione, che ha delle potenzialità enorme proprio come territorio omogeneo. Un turista che può venire qua, un olandese, come quando va sulle Dolomiti, non va in un comune ma va in un territorio, venendo sul Monte Pisano sa che trova un turismo lento, verde, sostenibile e può andare in bicicletta dalla Certosa di Calci alle bellezze medievali e rinascimentali e brunelleschi di Vicopisano in dieci minuti in bicicletta e questo è quello su cui bisogna continuare a insistere con forza. Tra poco parliamo anche di questo. Bertolini, sovrintendenza delle belle arti Pizze e Livorno, Calci e Vicopisano quasi totalmente vincolati a livello paesaggistico e architettonico, ma è così anche per gli altri comuni a proposito di rete di comuni qui tutti intorno ai Monti Pisani. Ma Calci e Vicopisano rappresentano un'eccezione, perché tutti e due questi comuni sono tutelati da un punto di vista paesaggistico quasi completamente, mentre altri comuni lo sono un pochino meno. Si parla del 95%? Quasi, sì, quasi. Che significa? Ce lo spieghi in poche parole. Cosa vuol dire quando un paese quasi totalmente, un comune quasi interamente vincolato dalla sovrintendenza? Perché così anche a parole ci fa un po' paura. Vuol dire che quel territorio lì è un territorio che ha un valore paesaggistico e architettonico. Tutelare e architettonico. E quindi i sindaci devono stare particolarmente attenti a come si muovono le amministrazioni? Sì, perché il nostro ruolo è quello di controllo, di cercare di non far snaturare quelli che sono i valori del territorio. E quindi le caratteristiche e l'unicità di quel territorio. Oggi c'è la globalizzazione. Se tutto il mondo diventa uguale, non so se... Su questo siamo d'accordo, però portando proprio al concreto il discorso, vuol dire che ci deve essere uno scambio, un confronto continuo su tutto? Certamente sì, il dialogo sta al primo posto, ma l'importante è almeno... Quanti no dite rispetto ai sì? È una battuta, ce la consente. I no paesaggistici sono tanti quanti sono i progetti che tendono a non essere... A snaturare il territorio, il mondo. Sono confini sottili e bisogna vedere, immagino, caso per caso. Insomma, una situazione non semplice, poi ci ritorniamo naturalmente, non pensiamo di esaurirla qui il discorso. Professor Macchia, lei è qui, dicevamo in questo caso, non come docente di chimica farmaceutica, anche se dopo la chiamerò in causa per parlare di olio, perché l'olio è proprio l'alimento base per quanto riguarda questo territorio, ma come delegato del rettore per i rapporti col territorio dell'Università di Pisa. Un po' una missione per voi, una vocazione quella della territorialità dell'Università? Sì, devo dire che la nostra è proprio un'università che vuole recepire le attenzioni del territorio. E sono proprio contento oggi di rappresentarli in questo bellissimo territorio. Ci abbiamo messo un po' io e lei a salire, con i volontari. Sono molto contento perché poi tutto questo rientra in quella che noi definiamo la terza missione dell'Università. Lei potrà dire all'Università io vi ho rappresentato lassù. Per me è veramente una cosa particolare, tra l'altro perché venire in questo posto bellissimo, delegato per i rapporti con il territorio, quale modo miglioro per rappresentare tutto questo. Ma voglio anche ricordare che l'ascolto del territorio è fondamentale perché noi come Università abbiamo la didattica, la ricerca, ma anche quella che noi definiamo la terza missione. La terza missione prevede, oltre che al trasferimento tecnologico, la formazione continua, bene tutto quello che riguarda il trasferire cultura sui territori. Quindi è fondamentale andare nei territori, capire, ascoltare e sulla base di questo poi creare delle iniziative congiunte con i territori. Quindi sono molto interessato di ascoltare quello che ci diranno i sindaci. E allora, uno forse l'argomento principale in realtà ci porterà a parlare di tanto altro, ma insomma il motivo per cui ci siamo ritrovati qui è l'ufficializzazione, l'adozione del piano strutturale intercomunale fra Calci e Vico Pisano. Visioni strategiche di valorizzazione e di sviluppo di tutto il territorio comunale con un orizzonte temporale di 15-20 anni. Quindi si guarda lontano. Cerchiamo di capirne di più. Innanzitutto sentiamo a questo riguardo, poi naturalmente voglio parlare con i sindaci, voglio sentire anche da loro quello che possiamo capire di questo piano e che cosa prevede per il futuro. Sentiamo l'assessore all'urbanistica, lo dicevo poco fa, l'assessore all'urbanistica Stefano Tordella del Comune di Calci. Insieme, lo vedrete in tutte le salse per tutta la puntata, il nostro Fabrizio Dell'Aiuti. Cara Carlotta, siamo al Comune di Calci in compagnia dell'assessore all'urbanistica perché vogliamo capire come si ridisegna un territorio. Voi avete attinto a questi piani, leggi, leggine eccetera, ma in concreto cosa farete? Stiamo ridisegnando appunto il territorio dei Comuni di Calci e di Vico Pisano, lo stiamo facendo insieme, quindi con dei piani intercomunali. stiamo rifacendo il piano strutturale e il piano operativo, che sono sostanzialmente i due strumenti principe che permettono poi di capire come si trasforma. Ecco, tradotto per chi non capisce i tecnici di urbanizzazione, significa che loro ridisegnano il territorio perché in natura c'è il bosco selvaggio, anche le crete senesi sono state disegnate dall'uomo con i cipressi, col fatto che non si sono costruiti grattacieli, eccetera, eccetera. Quindi, concretamente, la partecipazione del pubblico è doverosa? Assolutamente, è prevista per legge e noi l'abbiamo favorita molto perché questi strumenti sono strumenti che riguardano appunto tutto il territorio e quindi devono essere assolutamente conosciuti e devono avere un percorso di partecipazione. Più nuove costruzioni o più ristrutturazioni del vecchio? Il nostro punto essenziale, l'obiettivo che ci siamo dati, è quello del recupero del patrimonio edilizio esistente. Abbiamo un patrimonio molto ricco. Si chiama biomassa? Come si chiama quella che si produce in più o meno? La biomassa è quella che si brucia. No, ha un nome tecnico però. Il patrimonio edilizio esistente sono tutti gli edifici che già esistono, quindi l'idea è quella di recuperare soprattutto quello che già esiste. Per fare questo dobbiamo comunque dotare il nostro territorio di nuove funzioni e soprattutto di zone a parcheggio e a verde dove per esempio queste mancano perché storicamente si è sviluppato in un altro modo. Ecco, quindi insomma dovete riuscire a quadrare il cerchio rispettando il verde e però favorendo anche l'insediamento di parcheggi perché sono fondamentali. Poi c'è qualcosa anche per le scuole? Sì, nel caso specifico del comune di Calci noi stiamo portando avanti la costruzione della nuova scuola media e quindi con il piano definiremo anche cosa fare della vecchia scuola media e dell'area che attualmente occupa. Quindi questo è lo strumento di partecipazione per far sì che i cittadini possano esprimere i loro desideri su come potrà avvenire. Ecco perché c'è una canzone molto fraintesa di Gabriele Luporini che dice libertà e partecipazione. E parlando con Sandro lui dice no, libertà non è partecipazione, libertà è incisione. Io sono libero se incido nelle decisioni collettive e questo quindi è importante con il piano che voi fate. Ma qual è la cosa a cui le tiene di più? Che dice oh questo proprio è la cosa a cui sono particolarmente legato. Allora del piano siamo in questo momento diciamo particolarmente legati al fatto di poter mettere in piedi queste strategie e quindi avere la possibilità anche grazie diciamo al coinvolgimento di tutti gli altri enti perché i piani che stiamo facendo non riguardano solo il comune ma sono comunque verificati, studiati insieme alla regione, alla soprintendenza e quindi l'idea di lavorare tutti insieme per far sì che il nostro territorio... Tempi tecnici, quando verrà attuato il piano, quanto ci vorrà? Allora noi abbiamo adottato il piano strutturale nell'ottobre del 2022, adesso siamo in fase, una fase tecnica diciamo delle contradduzioni che sono state anche queste approvate nel Consiglio Comunale e il piano strutturale entro la fine dell'anno. E dopo i lavori? Il piano operativo un po' più di tempo e dopo ci sarà la possibilità per tutti i cittadini di sapere com'è che si trasforma il territorio. Riuscite a farlo nel vostro mandato, quando scadete? Noi cercheremo di farlo nel nostro mandato, scadiamo a maggio del prossimo anno, quindi cercheremo di mettercela tutta per concludere l'entrumento. La arriveremo a trovare, vogliamo vedere se avete fatto il compitino fatto bene. Grazie Assessore. Carlotta ti restituisco la linea, abbiamo capito cos'è un piano strutturale, meno male. Grazie Fabrizio e grazie all'Assessore all'Urbanistica Stefano Tordella. Allora Sindaco, partiamo da Calci e poi andiamo a Cabico Pisano, perché è fondamentale, importante, vogliamo parlare di questo in questa puntata, l'adozione del piano strutturale intercomunale fra voi due, voi due comuni diciamo, e quello che poi sarà il passo successivo, ovvero il piano operativo. Un po' l'abbiamo capito da quello che ci hanno detto loro, ma insomma ritorniamo. Cosa cambierà? Beh, intanto credo che al di là di quelli che sono anche i percorsi normativi che la Regione ha voluto e incentivato per pianificare l'urbanistica in maniera di area, non più di singolo territorio, però ripeto, al di là di quello che può essere anche un andamento normativo, io credo, noi crediamo, siamo fondamentalmente convinti, addirittura eravamo all'interno di un piano a sei comuni, di tutta l'area pisana, che certe strategie non possono che essere comuni. E questo perché è evidente, ci sono stati tempi nei quali il comune vicino piazzava il problema, l'area industriale, la discarica, a confine con l'altro comune. Capite che questo non è corretto mai, tantomeno può esserlo in comuni attigui come questi, dove l'ambiente è sostanzialmente unitario. Quindi fallito il percorso dei sei comuni dell'area pisana, Calcio e Vico non ci hanno pensato un attimo e ci siamo buttati a pianificare insieme. Forse anche con una maggior semplicità, perché siamo davvero territori completamente uniformi nella dimensione, nelle caratteristiche. Abbiamo solo l'Arno, con gli altri fiumi avevamo anche il Serchio, quindi autorità competenti diverse. Quindi tutto anche a livello burocratico un po' più semplice. Per cui ci siamo, diciamo, dati questo obiettivo, ma soprattutto abbiamo condiviso dei punti fondanti, perché poi i piani devono avere anche una loro coerenza. E tra questi il principale, l'ha detto l'assessore, ma lo voglio ribadire, è quello del privilegiare assolutamente il recupero del patrimonio edilizio esistente che deve essere condiviso con tutti gli enti che poi sono preposti a aiutarci a pianificare i territori al posto del consumo di suolo. Pensate da un dato, se tutte le previsioni, ed è materialmente impossibile che questo avvenga, che abbiamo inserito nel piano strutturale dovessero realizzarsi nei prossimi 15-20 anni, assisteremo allo 0,09% di consumo di suolo, meno dello 0,1% di consumo di nuovo suolo. E addirittura siamo andati ad abbattere del 40% le previsioni di superfici già esistenti. Sono numeri molto importanti. Sindaco, parliamo anche con il sindaco di Vico Pisano, Ferrucci. Sì, confermo quello che ha detto Massimiliano, era un dato che lo volevo dire anch'io, quindi immaginate quando vedete le foto dei paesaggi, come era Pisa, come era Firenze, come era la campagna prima, e si vede quanto le abitazioni, ma per ragioni al tempo anche parzialmente condivisibili, lo sviluppo economico degli anni 50-60 e quello che c'è stato, ma si vede che c'è sempre meno natura, se tutto parte, a Calci è ancora meno, a Vico Pisano ha le zone industriali, quindi siamo allo 0,3%, di questo 0,3% uno 0,2% è capannone, campo capannone, ecco lì, se uno fa un investimento non gli abbiamo dato la possibilità di farlo. Chiaramente tutto questo, quindi questa attenzione massima che abbiamo messo sul territorio e sul consumo di nuovo suolo, deve trovare anche però l'altra parte della medaglia, cioè fare di tutto affinché la parte del recupero sia in qualche modo agevolata, e qui sarà molto importante l'impegno di tutti. E poi c'è il Bosco e la comunità del Bosco si prende cura di questo grande Bosco dei Monti Pisani, il nostro Fabrizio Dell'Aiuti ha fatto una grande corsa e parla adesso con loro, con la comunità del Bosco, andiamo a vedere. Via! Cara Carlotta, siamo in un uliveto, ben tenuto, in compagnia del Presidente dell'Associazione del Bosco, e qui è... Si chiama Comunità del Bosco del Monte Pisani, è un ente del terzo settore. Oh, e questo è tenuto bene, ma il bosco incombe, il bosco cresce a dismisura, e allora c'è il problema di gestirlo questo bosco, ecco la vostra missione. La missione della comunità del Bosco non è tanto quella di una gestione del bosco, è contrastare l'abbandono, cioè il bosco, il Monte Pisano, tutto il territorio boscato... Guardi là! Tutto il territorio boscato è stato 60 anni fa abbandonato, completamente abbandonato, e chiaramente è lì pronto per coprire... E voi che cosa fate? Vabbè, che le posso dire, dopo l'incendio del 2018 abbiamo ripristinato un'area... Ma siete volontari o avete...? Volontari, ma abbiamo anche delle risorse, abbiamo anche delle risorse che ci sono arrivate da privati. Andremo ad intervenire ora su altre due aree che sono state bruciate nel 2018. Come siete voi della comunità del Bosco? Siamo circa 150 associati, ma... Accidenti, tanti, bravi, complimenti! Grazie infinite! Quello che è importante è che all'interno della comunità del Bosco partecipano non solo privati, cittadini, imprenditori, ma anche le pubbliche amministrazioni. Noi abbiamo cinque comuni dei sette comuni che insistono su questa realtà orografica, perché non ci limitiamo ovviamente a Calci. Sono i nostri associati Calci, Vico Pisano, Lucca, Capannori e ora a breve anche Buti. Sì, ecco perché è importantissimo gestire bene il Bosco. L'abbandono poi crea tanti problemi, ne sappiamo qualcosa con gli incendi, con le alluvioni, quindi il lavoro che fanno questi signori è veramente un lavoro lodevole. Io vi ringrazio perché fate una cosa veramente incredibile. Avete bisogno di qualcosa? No, diciamolo, siamo a un televisione. Di che cosa avete bisogno? Facciamo una richiesta. Visto che il programma SO sta parlando della pianificazione dei due comuni, Calci e Vico Pisano, noi abbiamo già mandato i nostri contributi al piano strutturale intercomunale, quando ovviamente dovevamo inviarli. Ora si sta aspettando il piano operativo. E che cosa avete chiesto? Abbiamo chiesto tutto quello che è possibile chiedere in una situazione in questo genere. Ad esempio, con riferimento alla gestione degli oliveti, si potrebbe pensare a facilitare in qualche modo la costruzione di annessi, anche la viabilità, quella interpoderale, quella vicinale. Abbiamo dei gioielli, dei veri gioielli. Il Monte Pisano è costellato di terrazzamenti, un patrimonio dell'umanità. Non dimentichiamo mai quello che è il Monte Pisano. È il Monts Eremiticus del Petrarca, con i suoi oltre 20 eremi che costellano il nostro monte. Ci sono un'infinità di cose che potremmo fare. In questo momento la mia mente va a quei campioni, perché ogni territorio ha i suoi campioni, che hanno avuto la capacità di guardare al cambiamento. Abbiamo queste richieste sul tavolo, la televisione serve anche a questo, a sensibilizzare l'opinione pubblica, a informare, perché non sapevamo che c'era una realtà così ricca di persone che vi partecipano, 150. Viva i tutori, gli angeli custodi del Bosco. L'ultima battuta è questa. La comunità del Bosco del Monte Pisano ha vinto un bando promosso dal Ministero. L'11 di novembre prossimo faremo un convegno qui in Certosa, a Calci, dove affronteremo il tema. Bosco, acque, oliveti, innovazione. Dobbiamo pensare a qualcosa di innovativa. Allora, per saperne di più, andiamo tutti a vedere. Andate sul nostro sito www.comunitadelbosco.it. Lì trovate tutto. Grazie, grazie. Grazie a te. Ciao. Che bello, grazie Fabrizio, grazie di averci raccontato anche questa realtà della comunità del Bosco. Ecco, la soprintendenza, perché si parla di urbanistica, ma come abbiamo detto c'è il vincolo anche dal punto di vista paesaggistico, il Bosco. Com'è possibile viverlo? Vivere il Bosco, ma nello stesso tempo cercare anche di andare d'accordo con quello che la soprintendenza decide per il paesaggio? Vivere il Bosco significa avere delle attrezzature per farlo vivere. Quindi queste attrezzature dovranno essere delle strutture a volte anche amovibili, anzi forse preferibili, amovibili realizzate con materiali naturali che si intonano col paesaggio e soprattutto di dimensioni consona e soprattutto posizionate nei luoghi adatti. E questo non è facile, però se tutti andiamo in questa direzione e riusciamo a fare le cose fatte bene e quindi ad avere poi la possibilità di avere strutture che possono essere anche piazzole, fontane rivisitate, luoghi dove mettere le varie attrezzature che possono dar luogo a posti dove posizionare le attrezzature per sviluppare il Bosco e quindi l'attività necessaria alla valorizzazione dei Monti Pisani. Il Bosco, ma c'è anche una certosa che è famosa in tutto il mondo, potremmo dire davvero la Certosa di Calci. Andiamo con il nostro Fabrizio Dell'Aiuti che intanto è corso anche lì, alla Certosa di Calci con il direttore Pierluigi Nieri. Eccolo qua, Fabrizio. Cara Carlotta, voglio farmi frate, sono alla Certosa di Calci, un posto incredibile, bellissimo. Mi aspetta il direttore di questa parte del museo che è proprio la parte dei frati Certosini. Buongiorno. Esattamente, buongiorno. La Certosa di Calci è un edificio monumentale che è destinato a due musei. Sono allestiti all'interno di questo splendido monumento, il Museo di Storia Naturale, che è dell'università, dove sono raccolte le collezioni degli animali impagliati e tutto quanto riguarda l'aspetto scientifico, che è allestito negli spazi che erano gli spazi di servizio della Certosa, mentre gli spazi cenobitici, quindi la chiesa, il chiostro, le celle, afferiscono al Ministero per la Cultura e costituiscono il Museo Nazionale della Certosa monumentale di Calci. Ecco, quindi noi siamo dove vivevano i frati, quindi c'è il refettorio che è un posto magico, c'è la chiesa, c'è il luogo della preghiera, ma poi conosceremo anche la parte del museo che è bellissimo. Se avete dei bimbi piccoli, io ce li portavo sempre. È una domenica fantastica, venite, visitate, i ragazzi rimangono entusiasti perché vedono questi animali imbalsamati. I ragazzi sono sicuramente più attratti e affascinati dalla parte di Storia Naturale. Io che ho tanti peccati da espiare, invece vengo qui. Ma anche la parte monumentale non è esclusivamente per le persone adulte, perché anche per questa parte curiamo dei percorsi didattici adatti alle famiglie e ai bambini. Fra l'altro domenica, non la prossima, quindi non il primo, ma la successiva, che mi sembra sia l'8 di ottobre, ci sarà proprio in occasione della giornata dedicata alle famiglie, ci saranno degli eventi dedicati alle famiglie e ai loro bambini. Ecco, io le devo dire una cosa però, venga qua, ce lo dico qua perché lontano dalle telecamere, ma io ho avuto un problemino di parcheggio perché il navigatore mi ha portato, non da una parte, poi ho visto che c'era il parcheggio dall'altra, ma com'è, lo famo? Lo famo un bel parcheggio, una bella viabilità, lo diciamo al sindaco, lo chiediamo al presidente della provincia, al ministro, a tutti, perché la cultura fattura, la cultura è importante. La cultura è importante, questa meraviglia è sicuramente un'eccellenza della regione e quindi merita tutte le attenzioni anche perché ha la potenzialità di poter attrarre pubblico e quindi persone che possono frequentare questa zona. Bene, allora, io restituisco la linea a Carlotta, non ci sono per i prossimi due mesi, sono qui a meditare, incomincio, guarda, guarda che scorcio, che cancello, vado eh, vi benedico anche... Bravo Fabrizio, vai a meditare, fallo anche per noi, noi qui invece dalla Verruca qua sui Monti Pisani salutiamo momentaneamente perché torniamo tra pochi istanti, neanche il tempo d'accorgersi di un po' di pubblicità e la pisagnana ritorna, tra pochissimo. Ben ritrovati dalla Rocca della Verruca, questa seconda puntata della Pisagnana, decima stagione, ben ritrovati su 50 Canale, siamo voluti venire qua su, qua su sulla Rocca della Verruca dove abbiamo portato anche il quadro di Mazzei perché sicuramente Filippo Mazzei e il Circolo Mazzei sono protagonisti ovunque andiamo per parlare di due comuni, quello di Calci e quello di Vico Pisano che sono qui, insomma, sotto alla Rocca della Verruca ci sono questi due comuni da una parte e dall'altra e tra l'altro hanno pensato in una logica di aria vasta di unirsi per un piano, per nuovi strumenti urbanistici insomma per un piano strutturale, per un futuro anche piano operativo intercomunale ne abbiamo parlato nella prima parte e abbiamo visto già molti volti di questo territorio sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista storico e culturale ma noi ci spostiamo, siamo stati più a Calci, ci spostiamo un pochino di più su Vico Pisano adesso sempre con il nostro Fabrizio De Laiuti che in questo caso si trova a Palazzo Pretorio proprio lì accanto alla Rocca di Vico Pisano insieme a Giovanni Fascetti presidente dell'associazione Ippolito Rosellini per parlare di una mostra che è in corso sulla via Michaelica, non sapete cos'è? È importante invece saperlo, ascoltatelo Ciao Carlotta, siamo a Vico Pisano nella Rocca del Brunelleschi che non ha fatto solo la cupola famosissima ma ha fatto anche questa grande opera a Vico Pisano siamo in compagnia di Giovanni per parlarvi di una strada ci sono tante strade, abbiamo visto c'è la strada dell'olio, c'è la strada del vino, c'è la strada del volto santo c'è la via francesima ma questa è la via Michaelica di che cosa si tratta Giovanni? È il primo e più importante itinerario di pellegrinaggio cristiano dalle isole irlandesi San Michael Skellig Ecco allora andiamo per ordine, partiamo da dove? Dall'Irlanda, questo itinerario si dice, recalchi la linea energetica tracciata dalla spada fiammeggiante all'arcangelo Michele in lotta con l'uscifero all'avvento del cristianesimo i primi cristiani, soprattutto monaci irlandesi cominciarono a percorrere questa linea in direzione di Gerusalemme Allora da questa nuova iniziale passiamo Arriviamo alla Manica, qui siamo alla Cornovaglia, San Michael Mountain un santuario affascinante perché rimane isolato dalla marea al pari dell'altro più famoso Oh famosissimo Mont Saint Michel Mont Saint Michel, guardate che meraviglia Ma poi dammo San Michel, questa linea arriva alle Alpi e qui siamo in Val di Susa, ecco la nostra sacra di San Michele affascinantissimo Non meno bello del più famoso San Michel perché devo dire che come struttura architettonica è moderna questa sembra una struttura moderna Spettacolarissima, invece di essere isolata dalle acque spesso viene isolata dalle nubi sembra che sia un santuario aereo Molto spirituale come tutti questi posti insomma Poi passiamo Ecco, a metà strada vorrei fare una sosta perché a metà strada tra la sacra di San Michele il più importante, il più antico santuario di tutta la linea San Michele del Gargano ci troviamo noi, Vico Pisano, il Monte Pisano Evviva! Su questa grande via micaelica Vico Pisano messo insieme a questi monumenti famosi in tutto il mondo ma piano piano anche Vico Pisano poi dopo la Pisaniana avrete un successo enorme perché è un programma molto seguito e anche voi fate parte e giustamente non vi siete messi perché avete un senso della misura è la Rocca che parla Ed è San Michele in Verruca il principale santuario micaelico di questa parte dell'Italia Benissimo! Arriviamo al Gargano e poi proseguiamo in direzione delle isole del Dodecanneso ecco il santuario di Simi Guardate questo, fai questo primo piano, sembra quasi una torta questo campanile è bellissimo, lo stile si vede subito intarsiato, inserito nel luogo e poi dopo qui arriviamo alla meta Arriviamo alla salvezza, arriviamo alla luce dell'Oriente, il Santo Sepolcro qui siamo al Monte Carmelo Aifa e quindi possiamo poi raggiungere Gerusalemme Ecco come si fa per visi... andiamo qua che stiamo più alla luce qui vedete poi c'era raccontato tutto ora noi facciamo un servizio televisivo di 4 minuti ma dovete venire a vederlo perché qui viene tutto spiegato in maniera dettagliata questa mostra fino a quando rimane, come si fa per accedervi c'è un biglietto, ci dica tutte le cose adesso dopo la poesia parliamo delle cose pratiche Sabato pomeriggio e la domenica fino alla fine di novembre Palazzo Pretorio è aperto al pubblico questa mostra è aperta gratuitamente finché il Comune di Vicobisano ce ne darà la possibilità finché non ci sarà un'altra esposizione quindi speriamo fino a novembre e quindi allora anche gli amici parsimoniosi di Genova, di Lucca questa notizia che è gratis e la prendono volentieri quindi anche gli amici lucchesi possono venire perché tra Lucca e Pisa va bene allora noi credo Carlotta che ti abbiamo delucidato su questa via micaelica da una rocca del Brunelleschi scusa Carlotta perché te c'è la tua rocca ma anche io ho la mia e la mia è del Brunelleschi ti restituisco la linea ciao grazie, è stupendo ringraziamo anche Giovanni Fascetti per questa vera e propria lezione su questi eremi su questi luoghi anche mistici di un territorio come questo c'è anche questo aspetto sicuramente importante e ci spostiamo invece in questo caso di nuovo alla Certosa di Calci non l'abbiamo detto prima perché si stava chiudendo la prima parte Sindaco c'era un appello un po' ai parcheggi perché sicuramente l'aspetto del parcheggio nella zona della Certosa non è ancora il massimo che pensate di fare su quel fronte lì? perché la Certosa di Calci i visitatori non finiscono mai insomma per un motivo o per un altro no i visitatori sono tanti come dicevo stanno tornando alle soglie dei 100.000 che era una come dire una soglia impensabile fino a non moltissimi anni fa e che invece per fortuna si sta ritornando a crescere si va in quella direzione ma siamo convinti che il complesso dei due musei e il suo complesso insieme come dire anche se riusciamo ad integrarli anche di più cosa sulla quale stiamo lavorando da da tempo possa crescere ancora quindi certamente c'è bisogno anche di queste quindi c'è la vostra attenzione c'è l'attenzione nel piano è individuata una localizzazione che era stata concertata anche con la superintendenza oltre che con le direzioni dei musei e su quella direzione spingeremo appunto nel percorso partecipativo che è il piano e abbiamo anche già trovato siamo entrati nella società Pisamo che avrà il compito di costruire gestire fino a che non sia ripagata l'opera in questo modo potremo finalmente dotare la Certosa del parcheggio che merita e potremo farlo anche in una formula sostenibile cioè senza sostenere i costi direttamente e la superintendenza è d'accordo giusto senza microfono faccia sì con la testa no ecco era troppo bello per essere vero no le spiego io sono sono ritornato funzionario del comune di Calci da poco e quindi non so se precedentemente c'era stata un'autorizzazione quindi non posso esprimermi su questo ma il sindaco ha detto di sì insomma sì va bene va bene noi ci crediamo allora andiamo adesso con Elena Bonaccorsi a parlare del museo di storia naturale di Calci sempre all'interno della Certosa e poi ritorniamo qua dalla Verruca qui per parlare anche con l'università di questo bellissimo museo visitato veramente da ogni parte del mondo vediamo ciao Carlotta e un saluto a tutti gli amici nella Rocca della Verruca qui ci troviamo invece al museo di storia naturale dell'università ed è un museo appunto universitario abbastanza conosciuto nel territorio è una realtà molto variegata ci troviamo in una certosa quindi abbiamo ampi spazi che negli anni sono stati allestiti per presentare al pubblico le realtà anche scientifiche dell'università quindi animali minerali e tutta una serie di allestimenti che nel tempo si sono molto si sono resi più moderni e più fruibili al pubblico è una realtà molto interessante perché è anche molto apprezzata dal pubblico dopo il periodo della pandemia siamo tornati ad avere il numero di visitatori alto che avevamo prima quindi stiamo parlando di circa 70.000 visitatori l'anno solo nel nostro museo e soprattutto una realtà molto vivace in cui presentiamo alle persone numerose attività ed eventi quest'anno siamo arrivati quasi a 70 eventi particolari di comunicazione al pubblico siamo in questo momento nella galleria dei cetaci che forse è la prima il primo allestimento di questo museo quando ci siamo trasferiti nella Certosa ma negli ultimi dieci anni effettivamente c'è stato un lavoro molto molto grosso in cui abbiamo modernato molte delle sale l'ultima tra l'altro è stata inaugurata il 22 settembre ed è la sala dedicata all'evoluzione dell'uomo che ha avuto anche essa un ampio successo di pubblico quindi le attività che si svolgono qui sono diciamo quello che per l'università è la terza missione cioè il rapporto con tutto quello che è esterno all'università per molte persone questo è praticamente l'unico interfaccia che hanno con l'università e questo siamo ci sentiamo anche molto responsabili cosa chiediamo al territorio ci piacerebbe che questa struttura fosse accessibile in particolare che la mobilità fosse resa anche più sostenibile ambientalmente quindi non solo auto e quindi parcheggi ma anche possibilità di arrivare con le linee degli autobus possibilità di arrivare con la bicicletta quindi piste ciclabili disponibili e tutto questo per portare ancora più persone su questo bellissimo territorio e anche nel nostro museo direi che per questo è tutto e vi restituisco la linea il museo di storia naturale grazie ad Elena Bonacorsi e allora col professor Macchia parliamo dell'università e di questo come dire un museo dove l'università insomma ha modo di farsi conoscere l'università di Pisa sì è proprio questo è proprio il vero esempio della terza missione fare cultura con il territorio con questo bellissimo museo e tra l'altro voglio ricordare già appunto il fatto che è stata inaugurata questa nuova sala dell'evoluzione umana che è veramente anche questa particolarmente bella invitante in cui uno può percorrere tutta l'evoluzione fino all'homo sapiens credo che sia importante ricordare che poi l'università di Pisa oltre ad avere questo museo alla Certosa di Calci ha anche altri nuovi musei in città e quindi comprende dieci musei che è il cosiddetto sistema museale di Ateneo e questo sistema museale di Ateneo tra l'altro il presidente e il professor Lorenzo Peruzzi è proprio una realtà importante perché uno volendoli può tutti visitare e fare un percorso cittadino nel centro della città e andarli a vedere tutti e sono di vario tipo si va dall'anatomia alla grafica alla fisica al calcolo all'egittologia e a altre realtà quindi ecco questo credo sia proprio un vero esempio di cultura della terza missione come ricordavo grazie professore prego prego no no volevo ricordare un altro aspetto importante della nostra università che ha come obiettivo di coprire il cosiddetto territorio di area vasta la nostra università come territorio copre sicuramente la provincia ecco la vostra area vasta qual è? perché la pitaniana ce n'ha una ecco direi che l'area vasta che copre l'università di Pisa è molto coerente con l'area vasta della pisagnana perché abbraccia non solo la provincia di Pisa e il comune di Pisa e tutti i comuni della provincia di Pisa ma anche la provincia di Livorno la provincia di Lucca la provincia di Massa Carrara fino ad arrivare in maniera significativa anche alla Spezia e alla provincia di La Spezia quindi vede che noi ricalchiamo l'area vasta universitaria Fabrizio Dell'Aiuti mi rivuole il collegamento deve dire qualcosa di importante Fabrizio scusa Carlotta è un piccolo fuori programma ti faccio vedere dove sei dov'è la Carlotta è qui con i suoi ospiti raccontaci raccontaci Carlotta in questo momento è dentro la fortezza della Verruca che racchiude la prima chiesa Longobarda di San Michele Arcangelo e qui fu costruito anche il primo monastero di San Michele dal marchese Ugo di Toscana prima dell'anno 1000 in basso si vedono i resti del secondo monastero costruito intorno alla metà del XII secolo ecco noi invece e qui lo possiamo vedere da questa cartina siamo adesso in questa situazione quindi te sei qui dove è la Verrucola e noi siamo più in basso però noi siamo nella rocca del Brunelleschi e va bene ne siamo contenti noi siamo alla Verruca tu sei a Vico Pisano va benissimo così Fabrizio Fabrizio poi continuerà lo rivedremo più tardi adesso credo che lascerà appunto Vico Pisano per dirigersi altrove fra poco andiamo invece anche nel comune di San Giuliano per parlare della Rocca di Ripafrata a questo proposito vorrei parlare di quelli che sono luoghi abbiamo detto anche prima monasteri luoghi spirituali luoghi simbolici anche di un percorso diverso per un turismo attento anche a questo e quindi chiedo al sindaco di Calci per quanto riguarda il monastero di Nicosia c'erano stati dei fondi richiesti che vengono arrivati se non sbaglio dal ministro Franceschini o ricordo male no no è corretto il ministro Franceschini ne ha stanziato un finanziamento importante di circa 4 milioni di euro poco meno se non ricordo male per avviare ovviamente il complesso di Nicosia abbandonato da tanti anni e quindi come dire si può con queste risorse che sembrano tantissime ma in realtà per il tipo di recupero di cui si parla si parla semplicemente di un consolidamento però su questo la soprintendenza che è presente e che segue la parte di appalto dei lavori credo che possa portare un contributo importante però sono risorse che arriveranno per attivare appunto un nuovo interesse verso il complesso di Nicosia e avviare il recupero io credo che su Nicosia e qui approfitto della presenza appunto anche dell'università possa rappresentare una sfida di area l'università di Pisa o attraverso l'università di Pisa attrarre anche delle università internazionali di altri paesi che spesso cercano in Toscana quei luoghi per i campus estivi piuttosto che per altre realtà e che hanno anche una capacità di investimento importante quindi dopo questo primo avvio del recupero con questi fondi che sono stati mandati e che sono in fase di progettazione di assegnazione in termini di lavori si possa vincere insieme una grande sfida perché quel complesso possa tornare davvero a nuova vita ma con una finalità pubblica che sarebbe doppiamente auspicabile una bella idea un bel progetto penso sia d'accordo su questo anche il professor Macchia invece al sindaco Ferrucci al sindaco di Vicopisano chiedo come sta andando invece il discorso del recupero della Torre di Caprona perché anche lì credo ci sia l'università in un progetto che prevede insomma dopo magari faccio parlare naturalmente anche il professor Macchia e la soprintendenza su questo a che punto siamo di questo progetto? siamo andati molto velocemente perché in pochi messi anche sulla spinta delle emozioni nate dagli studi dei due critici d'arte francesi che sono andati sulla tv nazionale francese c'è stato un po' di aspetto anche emotivo e di emozione abbiamo firmato la convenzione con le tre università con i privati perché lì è privato quando si dice a volte è tutta privata la meravigliosa verruca alle nostre spalle non solo è privata ma insiste su due comuni quando vengono da me Massimiliano dicano aspettate dell'altro che crolli no è il classico discorso da bar non si capisce la complessità che c'è dietro quindi noi abbiamo fatto una convenzione come abbiamo fatto del resto per il camminamento e per la rocca di Brunelleschi che anche questi sono di proprietà privata bisogna fare delle convenzioni tutto diventa più difficile comunque la parte più difficile sarà fatta ci sono dei privati che si stanno offrendo per farci la progettazione gratis sembra troppo bello ma spero che a questo punto si realizzi velocemente soprintendente io dico soprintendente per abbreviare sia su Nicosia sia su Caprona ecco dunque su Nicosia c'ho una novità di stamattina che è arrivata la verifica favorevole della progettazione quindi nel giro di qualche spero incrocio le dita di qualche giro di qualche giorno dovremo chiudere dovremo chiudere il discorso progettazione almeno quella definitiva e iniziare l'appalto la procedura d'appalto che gestirà il segretariato nostro del Ministero della Cultura di Firenze il segretariato regionale i tempi insomma quali sono? chi lo sa? no chi lo sa no io vorrei è un desiderio ma vorrei iniziare prima della fine dell'anno perché poi l'anno prossimo potrebbero nascere delle complicazioni quanti mesi ci vorrebbero poi per tutto il lavoro? come? quanti mesi ci vorrebbero anni? il mesi è un paio d'anni perché sono 4 milioni e due quindi il sindaco che ha iniziato purtroppo non lo vedrà la fine del suo mandato non lo so magari se poi si ripresenta alle elezioni dopo forse sì dopo un po' va bene e comunque per quanto riguarda Caprona? Caprona noi abbiamo scritto ai proprietari e stiamo stiamo appoggiando la proposta del sindaco Ferrucci di questa convenzione di questa quindi da parte nostra massima disponibilità alla valorizzazione l'università professor Macchia credo che l'università sicuramente col progetto di Caprone è già in fase è stato già avviato tutto e quindi i nostri esperti dei dipartimenti di ingegneria lavorano a questo progetto insieme agli architetti credo dell'università di Firenze ingegneri eccetera quindi questo è già un progetto avviato per quanto riguarda il resto sicuramente secondo me queste sono iniziative importanti dove dobbiamo partire anche da un'iniziativa che abbia un progetto formativo che possa essere possa avere anche una ricaduta sul territorio oppure attrarre come diceva il sindaco da altre zone anche a livello internazionale giovani che possano venire qui a formarsi in qualche maniera quindi sicuramente iniziative che possano essere quelle che noi chiamiamo summer school winter school cose di questo tipo volevo solo aggiungere Carlotta perché in questo ambiente così bello di verde forse mi sono pensavo di esserci forse mi sono dimenticato che tra i musei c'è anche l'orto botanico e il museo botanico giusto perché credo che sia uno dei tra i musei scusate ma perché qua forse mi sembra è detto del polo museale esatto sistema museale di Ateneo volevo che si vede questo verde mi aveva certo quello era stato tanto per scontato perché siamo nel verde invece no c'è anche quello prima di chiudere questo blocco però parliamo del comune di San Giuliano e della rocca di Riprafratta c'è stato un po' un percorso simile a quello che abbiamo ascoltato fino ad ora ce lo racconta l'assessore al bilancio del comune di San Giuliano Matteo Cecchelli eccolo qua siamo qui a Ripafratta la frazione del comune di San Giuliano Terme dove vediamo alle mie spalle questo bellissimo monumento la rocca di San Paolino rocca di San Paolino che è stata protagonista nel periodo medievale come punto di confine tra Pisa e Lucca elemento fondamentale tutto il sistema difensivo che c'erano sui Monti Pisani insieme alle varie rocche che si trovano a Vicopisano alla Verruca a Nozzano un elemento una peculiarità del nostro territorio che era purtroppo abbandonata era di proprietà privata e come amministrazione abbiamo voluto abbiamo voluto e cercato di acquisire questo monumento per ridargli ridargli nuova vita e inserirlo in un contesto quindi armonico di tutto il Monte Pisano delle rocche e dei sistemi difensivi questo perché crediamo che sia importante valorizzare il territorio la storia recuperare e fare in modo che tutti questi monumenti non vadano persi è stato diciamo c'è stato da parte della comunità circa dieci anni fa anche una spinta a forza è iniziato un movimento dal territorio tramite l'associazione Salviamo la Rocca che ha coinvolto tutta una serie di cittadini e quindi è stata una sorta di percorso partecipato che ha coinvolto l'amministrazione che noi abbiamo colto subito al volo come opportunità è chiaro che era complicato solo come comune riuscire a iniziare un percorso abbiamo coinvolto la regione e tramite la regione due anni fa siamo riusciti ad acquistare la Rocca dalla proprietà privata quindi la Rocca oggi è un bene pubblico un bene del comune di San Giuliano Terme questo ci permette ci permetterà di poter iniziare un percorso anche di richiesta di acquisizione di fondi per il suo recupero e la sua valorizzazione il comune di San Giuliano ha fatto quattro anni fa ormai un protocollo di intesa con l'università di Pisa la facoltà di ingegneria il professor Marco Giorgio Bevilacqua insieme anche alla proloco di Ripafratta Salviamo la Rocca questo protocollo di intesa è finalizzato al recupero appunto della Rocca della frazione anche di Ripafratta e quindi vogliamo cercare di creare un contesto che possa valorizzare il monumento dal punto di vista turistico dal punto di vista ricreativo dal punto di vista culturale è chiaramente un progetto ambizioso servirà del tempo e serviranno degli anni intanto abbiamo affidato all'inizio dell'anno ad una società che fa parte delle start-up e delle spin-off di ingegneria il rilievo laser scanner 3D ci hanno consegnato in questi giorni la nuvola dei punti tridimensionale è stato fatto rilievo anche col drone questo ci permetterà di avere da qui ai prossimi mesi il rilievo dello stato di fatto della Rocca ecco questo è un punto di partenza che ci consentirà poi di iniziare tutte le indagini sul monumento le indagini statiche le indagini del degrado dei materiali e ci permetterà consecutivamente di fare un progetto e di cominciare ad attingere a dei fondi per il suo recupero grazie a tutti Grazie a tutti. Per parlare di quelli che sono tanti progetti di questo territorio parliamo anche dei corsi d'acqua e di come vengono manutenuti grazie all'impegno, lo diciamo in tante puntate della nostra Pisaniana, del consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno per quanto riguarda quest'area e dunque Fabrizio Dell'Aiuti è andato a parlare anche con loro. Cara Carlotta voi siete lassù nella splendida fortezza, noi siamo a valle, ci unisce l'acqua, l'acqua scende dalla montagna e attraverso il fiume poi arriva al mare, ma l'acqua è anche un problema, ne sa qualcosa il nostro Maurizio che è presidente del consorzio di bonifica 4 perché siete numerati. Allora, come si gestisce questa acqua? Bene, l'acqua è importantissimo gestirla, non a caso noi ci chiamiamo consorzio di bonifica perché nelle bonifiche poi dopo ci deve essere un seguito, alle bonifiche si deve dare un seguito e di conseguenza va seguito il percorso dell'acqua e devo dire che negli ultimi tempi è ancora più attenzionato perché o c'è troppa acqua o c'è poca acqua. Quindi la gestione del territorio in funzione dell'acqua è molto importante. Ma la domanda che si fa alla gente, mi permetta, presidente, mi permetta, ci arriva la bolletta della bonifica e mi padre faceva, oh quanto si paga questa bonifica? È bonificato e via, non è così. No, non è così perché come accennavo prima, una volta effettuato le opere di bonifica poi vanno manutenute, vanno incrementate, vanno aggiornate anche e soprattutto. Pensiamo soltanto al fatto che oggi noi gestiamo una serie di cateratte in telecontrollo, cosa che chiaramente cent'anni fa non si faceva con il computer, quindi con l'immediata posizione. Quindi questa bolletta in definitiva va pagata volentieri anche perché monitorando, facendo le giuste manutenzioni poi si evitano danni alle nostre case, alle nostre città. Quindi è importante prevenire, come diceva il famoso spot, più che curare. E voi siete un po' gli angeli custodi. Qui vieni, voglio chiamare anche lui in causa, è uno dei tanti che lavorano e facciamoli vedere. È un nostro custode del territorio. Quanti sono i vostri dipendenti? Noi abbiamo 94 dipendenti per tutto il consorzio che è stato riunificato nel 2014, che comprende le aree della Val di Nievole, oltre che l'area Pisana e l'area della Val d'Era. Arriviamo fino a Volterra con i territori, quindi siamo un'area vasta. E quindi tutte queste persone vigilano perché i danni che possono essere creati dall'acqua siano il più limitati possibile o il più controllati possibile. E allora adesso virtualmente risaliamo verso la nostra Carlotta, che è in cima a questa fortezza. Nel risalire abbiamo l'altro problema, che è quello delle frane, controllate anche quello. È evidente che tutto ciò che è legato allo scorrimento delle acque, quindi alle raccolte, quindi i corsi d'acqua che noi abbiamo in gestione, è tutto collegato. Quindi in pianura abbiamo il problema degli allagamenti, in montagna analizziamo il problema legato alle frane. Quindi è un monitoraggio a 360 gradi. Maurizio, la pago più volentieri la bolletta quest'anno. Io ci ho piacere. Perché? Perché ho capito tutto il lavoro che c'è dietro. Restituiamo la linea a Carlotta dicendo che ancora una volta è la conoscenza che fa la differenza. Ciao Carlottina. Grazie Fabrizio, grazie a Ventavoli, grazie al Consorzio di Bonifica. Abbiamo capito anche come funziona la questione delle bollette. Fabrizio è unico. E allora parliamo con i sindaci riguardo ai corsi d'acqua. Iniziamo stavolta però da Vico Pisano. Sicuramente c'è l'impegno del Consorzio, ma c'è l'impegno anche del Comune. Da questo punto di vista, quanti corsi d'acqua sono attenzionati? Quali sono le difficoltà? Vico Pisano è particolarmente complesso perché oltre al Consorzio presieduto da Maurizio Ventavoli, che ringrazio perché noi li stressiamo in continuazione quando abbiamo le sollecitazioni dei cittadini, quando parte il taglio ci sono anche lì tantissime cose confliggenti, interessi tutti nobili, ma il taglio che non può essere fatto in un periodo di tempo per la fauna, però nel frattempo la gente ha paura degli allagamenti, e poi c'è quello, noi abbiamo anche l'altro Consorzio, Toscana Nord, presieduto da Ismael Ridolfi. Quindi già questo è molto complesso. C'è l'Arno, c'è il canale emissario e ci sono tantissimi corsi d'acqua che vengono dal Monte Pisano e vanno verso l'Arno, quindi è un sistema molto delicato, molto fragile, che impatta in maniera anche decisiva sul piano strutturale, sul piano operativo, su tutto il sistema delle acque. A proposito di recuperi, questo vale per Calci e vale per Vico Pisano, noi vorremmo recuperare e dare possibilità a certi manufatti ormai abbandonati, eccetera, ma le nuove normative molto stringenti anche sul dissesto idrogeologico lo impediscono. Quindi siamo molto stretti fra tutte queste leve, ma abbiamo solo un'unica soluzione, continuare a lavorare, studiare e impegnarsi al massimo per risolvere questi problemi. Gimenti? Io devo dire che la storia del territorio di Calci è una storia che è fortemente legata all'acqua. Gli abitati principali del nostro paese sono nati lungo i corsi d'acqua, le due zambre, le zambre del paese e lì ci sono gli abitati più storici e anche quelli produttivi, perché era la zona produttiva di Pisa, la Val Graziosa. E questo che è la storia del territorio rischia oggi, per effetto delle norme, delle trasformazioni che ci sono, rischia di diventare, come diceva Matteo, una debolezza, perché abbiamo dei vincoli nella pianificazione di quelle zone, che sono vincoli di natura idraulica, sono vincoli di natura delle destinazioni che si possono dare in quelle aree, vincoli che possono essere legati anche alla storicità del fabbricato, che rischiano, se non vengono governati, ed è questo che stiamo facendo in prima battuta con la Regione Toscana e successivamente con tutti i tavoli che sono previsti per l'approvazione degli strumenti, se non vengono affrontate con un'ottica sinergica e con una unità di vedute rischiano di non poter dare un futuro a certe zone, che sono le zone storiche del territorio di questo paese, ma non solo di questo paese, perché queste norme sono in vigore da tutte le parti, in Toscana per esempio. E ci sono altri abitati, penso alla Garfagnana, che hanno delle caratteristiche simili. Ecco, la sfida è quella di, certamente, nella tutela idraulica, nella riduzione del rischio, nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni paesaggistiche, ma la sfida è quella di dare dotazioni in quelle aree e di poter recuperare quei volumi con interventi di qualità e fare in modo che tutto questo possa stare in piedi e abbia anche una sua sostenibilità. Altrimenti il rischio è l'invecchiamento del patrimonio edilizio senza futuro per alcune zone. Questo credo che non vada bene per nessuno. Vorrei che la soprintendenza parlasse anche di questo, perché a volte il vincolo può essere un limite, a volte può essere sicuramente una tutela, è molto difficile. Per quanto riguarda i territori che diceva il sindaco Chimenti, di solito sono dei territori legati ai fiumi e ai vincoli paesaggistici che non precludono il riordino di questi volumi. Quindi è una strada da percorrere, percorriamola insieme, cerchiamo di riqualificare questi posti e però va fatto nella maniera corretta, va fatto insieme e credo che potremo arrivare a una soluzione anche legata ai parcheggi, per esempio. Perché anche per noi soprintendenza il discorso dei parcheggi è un discorso che ci interessa perché è legato alla qualità del territorio e quindi questo potrebbe essere un'iniziativa molto interessante. E allora, come non parlare di olio? Abbiamo parlato di Olivetti, abbiamo parlato del Bosco, ma con Fabrizio Del Aiuti che così ci saluta con quest'ultimo servizio, noi andiamo a ritrovare Gianluca Bovoli, presidente della strada dell'olio, delle strade dell'olio del Monte Pisano, per vedere anche come è andata, come sta andando questo anno 2023 sotto il profilo dell'olio e della raccolta e per quelle che sono le esigenze di un settore. Fabrizio, a te. Ciao Carlotta, siamo con Gianluca Bovoli che è il presidente delle strade dell'olio del Monte Pisano. Lo so che tu sei lassù, ma qui gli olivi sono ovunque, è vero Gianluca? È vero. Lei è lassù sulla rocca, ma gli olivi sono ovunque. E tutte le strade portano agli olivi? Esatto. Magari. Passano agli olivi. Magari, perché da questo punto di vista bisognerebbe e si potrebbe fare meglio, visto che nel programma si parla anche di piani, di strutture, di infrastrutture, di servizi. Sì, quello assolutamente sì. La strada dell'olio unisce tutti i comuni del Monte Pisano, tra cui anche Vico Pisano e Calci. Quello che si è sviluppato negli ultimi anni è un turismo che passa attraverso la strada e quindi va da un comune all'altro del Monte Pisano. Quello che ci piacerebbe, sarebbe auspicabile proprio per andare incontro alle esigenze dei turisti, è che anche i trasporti, non soltanto le strade che ci sono, ma i trasporti anche pubblici per supporto del turista, possano avere questo tipo di tragitto. Quanti pulmi ci sono che collegano? Sette, otto, dieci al giorno? No, purtroppo il collegamento tra i paesi del Monte Pisano, tra un paese e l'altro, sono ridottissimi. Ce n'è probabilmente uno o due al giorno in orari molto da lavoro e poco da turisti. Ecco, però siamo pieni di biciclette elettriche che si possono noleggiare e quindi si sopperisce, anche meglio, no? Quante ce n'è? 3 o 400? No, ahimè, di biciclette elettriche ci sono, ci sono. Ma pubbliche quelle? No, quelle non ci sono. Quelle come a Firenze? No, quello è un progetto su cui ci piacerebbe lavorare. C'indaci, fate qualcosa! Però ci stiamo lavorando e ci lavoreremo su questo progetto di mettere queste biciclette elettriche che possano mettere in comunicazione i comuni. Per il momento ci sono, almeno quello ci sono, ci sono delle aziende che noleggiano le biciclette elettriche e i turisti le usano tantissime. Ma c'è quella parola PNRR, quel piano lì, metteteci le biciclette, i trasporti, è fondamentale per sviluppare ancora di più questo turismo legato all'olio. E a proposito di olio, che annata è stata? Che annata è? Che sarà? Perché parte o... Si parte tra poco qui, si frange, si sta già frangendo. In realtà si sta già raccogliendo, si sta già iniziando a frangere. Quest'anno, ahimè, è un'annata, io sono sempre ottimista, quest'anno non riesco a essere così ottimista. Sarò ottimista, spero sulla qualità, sulla quantità per il momento. Le prime risposte che abbiamo è molto bassa. Stiamo parlando di un calo del 30-40% rispetto all'anno scorso, dovuto a tanti fattori. La mosca in primis, la siccità... C'è stata una primavera piovosa che ha favorito le larve delle mosche. Ora io dico questo, inquadra, vedi, c'è la pancetta perché si mangia. Allora, bisogna usarne poco di olio, poco. Però quel poco deve essere buono. E dovete pensare che per fare un litro di olio ci vogliono 10 minimo chili di olive. Le olive vanno colte, poi prima vanno potate gli olivi, bisogna fare i trattamenti, va tagliata l'erba. Insomma, c'è un lavoro pazzesco dietro quel goccio d'olio. Allora prendiamo olio italiano, olio importante, olio estraveggine, DOP, IGP, meglio. Condiamo il giusto e camperemo tanto. Sei d'accordo? Assolutamente sì. L'olio ha questo grosso vantaggio che oltre a essere molto buono, oltre a impreziosire i nostri piatti, fa anche molto bene alla nostra salute. Però deve essere un olio buono, di qualità. Quindi io capisco la crisi, perché la patiamo tutti. Però compriamo una bottiglia d'olio, anche per i nostri figli, usiamolo bene, perché tante volte si spende 15-20 euro per una bottigliaccia di prosecco, che ora non se ne può più, perché è bene dirlo, su 10 bottiglie di prosecco ce n'è una a modo, in mezz'ora si beve e non si compra con 20 euro una bottiglia d'olio, che dura un mese. Quindi pensiamoci, quando pensiamo alla nostra salute e a quella dei nostri figli. Io ringrazio il nostro ospite, cedio la linea a Carlotta. Oh, ce l'hai lì i sindaci? Diggli che facciano qualcosa con i pulma, con le biciclette, perché qui vogliamo girare da frantoio a frantoio per tutto il comprensorio del Monte Pisano. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Grazie Fabrizio Dell'Aiuti, un saluto anche a Gianluca Bovoli, col professor Marco Macchia, non posso perdermi l'occasione, lui che è docente di chimica farmaceutica, di parlare di olio, tanto ha parlato nelle nostre trasmissioni anche di nutraceutica, l'olio però non è un farmaco, diciamolo chiaro e tondo. No, però mi piace ricordare che proprio nel 2016 abbiamo fatto proprio una trasmissione a Pisagnana, proprio a Vico Pisano, proprio al frantoio di Bovoli. Che dire, l'olio è un alimento nutraceutico, quindi è un alimento che è dotato oltre alle proprietà nutrizionali di proprietà salutistiche. Quindi sappiamo tutti che è un cardioprotettivo e quello che è importante, voglio dire, è ribadire l'importanza della cultura nell'olio d'oliva, perché la qualità dell'olio è fondamentale affinché ci siano queste proprietà salutistiche che lo caratterizzano. Quindi è importante parlarne, parlarne sempre, anche a livello scientifico, noi come università siamo coinvolti sia nello studio delle proprietà salutistiche dell'olio, ma aggiungo in questo momento stiamo anche lavorando agli studi degli scarti dall'olio perché sono ricchi di polifenoli e anche questi possono servire per poi avere dei prodotti salutistici. Ci sono nuovi studi sull'olio? Dice, già stato scoperto tutto? No, 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 perché ci sono questi polifenoli che di fatto poi possono essere estratti, caratterizzati e poi studiati per le varie proprietà. Quindi chiaramente questo è molto importante, ma ribadisco è importante che nell'olio siano presenti questi polifenoli, quindi la qualità è essenziale. Sindaci, parlo a lui in questo caso Vico Pisano, poi arrivo anche a Calci per chiudere, si parlava con Bovoli della mancanza di mezzi pubblici per andare a vedere, a conoscere questi territori, queste realtà anche dell'olio, le aziende, biciclette, manca un po' questo aspetto ancora? Si può implementare, si può fare meglio? Sì, Gianluca me l'ha detto proprio sabato in un'occasione della festa che abbiamo fatto e che è andata molto bene, eccetera. Chiaramente ognuno guarda la sua componente, i genitori, gli adolescenti dicono che non ci sono abbastanza mezzi pubblici per raggiungere le scuole secondarie, secondo grado a Pisa, eccetera. Per fortuna con il nuovo riassetto e della nuova gara che spero parte a gennaio dovrebbero aumentare di molto le corse e si spera che questo migliori ulteriormente la connessione fra tutti i comuni della zona anche in chiave turistica. Su questo però voglio essere estremamente serio e trasparente perché non mi piace fare promesse che poi tornano sulle nostre scrivanie ma non dipendono solo da noi, non è il tavolo del singolo sindaco quello su cui si gioca questa partita ma un sistema più generale che in qualche modo abbiamo smosso dopo tanto tempo. Sindaco di Calci? Sì, assolutamente confermo. Anche per il Comune di Calci con il T2, ora è un aspetto tecnico, ma diciamo con il secondo tempo della gara del trasporto unico regionale ci sarà un aumento delle corsi, dei collegamenti diretti con Pisa, una nuova linea che va verso la zona di Navacchio e lì si arresta che consente di salire sulle frequentissime corse della linea Pontedera-Cascina-Pisa, quindi una trasformazione importante che siamo contenti, è stata pianificata negli anni, purtroppo in ritardo, come diceva Ferrucci, Matteo non dipende da noi, però su questo abbiamo investito e sicuramente migliorerà la cosa. Non siamo fermi però neppure nel tema delle postazioni delle bici elettriche, tanto che attraverso Pisamo, nella quale facciamo parte della compagine sociale, una postazione, il Sindaco Conti si è impegnato, che venga messa sul territorio di Calci per essere collegata al sistema di questo tipo di biciclette con Pisa ed è anche questo un aspetto che attendiamo di localizzare insieme o al nuovo parcheggio appunto a cui facevo riferimento prima o in altra area che sceglieremo insieme al museo, insieme alla soprintendenza, ma insomma già su questo, anche su questo abbiamo una risposta pronta perché siamo consapevoli della necessità. Tra poco torniamo per l'ultime battute e saluti, prima però vorrei lanciare la linea alla nostra dottoressa Teresa Sicchetti con la sua rubrica Terra, Ambiente e Salute, perché insieme a lei c'è un personaggio che chi come me ha vissuto l'adolescenza negli anni Ottanta non può dimenticare, non dimentica, Clive Griffith, che lei è andata a ripescare, è diventato suo amico e lei insieme a Clive è andata a ritrovare un video degli anni Ottanta, o Novanta non mi ricordo ma mi sembra Ottanta, in cui già si parlava per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, la sostenibilità ambientale, del problema del riciclo della plastica, pensate voi. Teresa. Carlotta, guarda un po' chi ho vicino a me, questa serata è veramente unica, oltre che speciale, ma unica sicuramente, guarda un po' chi c'ho. Ma perché è unica, perché non mi vuoi più, insomma, non si può ripetere? No, lo ripeteremo, ma questa è la unica, perché rimane unica, la prima è unica. Noi abbiamo Clive, Carlotta, vuoi dire qualcosa alla nostra presentatrice? Sì, vorrei chiedere scusa per il mio italiano, ho imparato da luglio e non ho mai cambiato in 40 anni, anzi 45 anni che risiedo qui in Toscana. Avrei voluto dirtelo io, meno male l'hai detto te. Allora Clive, perché tu sei qui stasera vicino a me, oltre che faremo una serata stupenda e facciamo una replica, diciamo, di Telemonte Pecora. Vorrei che il regista guardasse bene tutti i particolari che abbiamo riprodotto. Clive, tu nel 1990, ho visto la data, era quella, hai fatto una canzoncina sul riciclo della plastica. Io ne parlo tanto nella Pisagnana, ma come ti è venuto in mente negli anni Ottanta? Si sentiva già questo problema? Si sentiva già questo problema, perché ricordiamoci che negli anni Ottanta abbiamo per la prima volta affrontato i problemi ambientali, quindi abbiamo imparato parole nuove della lingua italiana come i mucilagini, come ozono, come tante cose qui. Poi magari non abbiamo imparato da quello, però abbiamo dovuto affrontare situazioni che poi sono ovviamente peggiorate ultimamente. Comunque, detto quello, il problema dell'altro è con il boom della plastica, perché sai, il telefono è fatto di plastica, tutto è fatto di plastica, bisogna pensare dopo dove si mettono. Non sto parlando più del telefono, più di altro. Diciamo che la plastica ci ha dato anche dei vantaggi, ma l'uomo poi esagera sempre. Ma questo video, mi sembra, ho sentito così, che si rivolge molte ragazze alle scuole. Era indirizzata ai ragazzi che guardavano video music, ormai avranno attorno ai 50 anni, comunque, o 40 diciamo, in realtà il fatto è di sensibilizzare i ragazzi del nostro futuro. Quindi io spero, ma non grazie solo a video music, o a queste campagne, che ci sia una generazione di oggigiorno, che hanno appunto attorno ai 50 anni, che sono molto più sensibili e coscienti del nostro abitato. Ascolta, Clavi, visto che è un revival stasera, anche io a Bocca d'Arno, circa due o tre anni fa, ho letto una tabella per far capire ai cittadini quanto è importante sapere che la plastica si degrada in 500 anni e quindi è importante, poi la plastica si può riciclare. Ai tempi tuoi, negli anni Ottanta, si bruciava, si sviluppava la diossina da tutte le parti, quindi complimenti per questo video. Io voglio chiudere questi cinque minuti che ho, poi con il tuo video ancora, va bene? Io ho fatto un esperimento che era raccogliere tutti i rifiuti di una famiglia, di una vicinessa di Prato, per vedere cosa produciamo, eccetera. Poi abbiamo fatto un spetticolare sul muro per far vedere quanto è di plastica, quanto è di carta, di vetro, eccetera. Quindi se non possiamo metterci la parola sulle confezioni dobbiamo moralmente liberarcene. Quello che è bello, Clive, è che giocando hai affrontato un problema serio, come hai fatto in tante altre tematiche, insomma, quindi bravo, quando l'intelligenza si mette al servizio veramente di tutti. No, no, questa è la, grazie, grazie. Quindi ovviamente quando vai al Bocca d'Anno, quando mettono quelle reti, tirano fuori la plastica o dei pesciolini, non si sa. Ma forse dei pesciolini dentro la plastica e in tutti i casi la microplastica dentro i pesciolini che noi andiamo a mangiare. Sì, questo è vero, questo è vero. Allora, sei pronto per la serata? Sì, sì, sì. Andiamo a incominciare? Sì, volentieri. Allora, mandiamo la sigla con la fine del tuo video che è prodotto nel 1990 e noi andiamo a incominciare. Allora, in bocca al lupo. Grazie tante. A te Carlotta. Quanti amici della Pisagnana sempre di più con Teresa Clyde Griffith. Grazie davvero, un saluto e un abbraccio. A presto, tornando ai nostri comuni di Calci, di Vico Pisano, al Monte Pisano. Concludiamo con quelle che potrebbero essere le ultime news, quelle che non abbiamo detto fino ad ora. Mi è venuta in mente la scuola, la vecchia scuola, la nuova scuola. Che succede sotto il profilo degli edifici scolastici a Calci? Mi fa piacere concludere su questo perché ne parlava l'assessore all'inizio e mi fa piacere concludere perché è il progetto più importante che abbiamo portato avanti come amministrazione in questi anni. Siamo fondamentalmente convinti che la scuola rappresenti non solo dal punto di vista simbolico ma anche dal punto di vista materiale il luogo della crescita dei nostri ragazzi. Investire nella scuola è fondamentale. Le scuole del territorio sono state tutte valorizzate durante la nostra amministrazione. La scuola media andava semplicemente dismessa perché non raggiungeva standard di sicurezza sufficienti. Quindi la stiamo costruendo grazie a Linea con un percorso lungo, nuova e come diceva l'assessore tra pochi mesi nel corso del 2024 sicuramente potremo trasferire ragazzi nella nuova scuola opera strategica di protezione civile altamente efficiente dal punto di vista ambientale e soprattutto sicura per i nostri ragazzi e adatta alla didattica con tutti gli spazi che una nuova scuola deve avere e quindi avremo da decidere il futuro del vecchio immobile utilizzato come scuola. E questa è una delle grandi sfide, è il grande progetto dell'amministrazione. Come abbiamo sempre detto noi siamo per la partecipazione, la partecipazione reale, gli strumenti ci sono. Il percorso di formazione degli strumenti urbanistici è il percorso principe dove si guarda alla partecipazione. La proposta dell'amministrazione è chiara, una parte di quella struttura serve come ampliamento della scuola elementare che è adiacente e come centro civico a tutti gli spazi per poterlo avere. L'altra parte è la proposta di una valorizzazione, una valorizzazione controllata che possa permettere di riqualificare un edificio che deve comunque poi prossimamente essere demolito, non è neppure un edificio storico, non ha superato neppure i 50 anni eppure già da essere dismesso e per realizzare che cosa? Questo è quello che vogliamo disegnare insieme ai cittadini e magari anche recuperare delle risorse per interventi importanti sul territorio. Ma questa è la parte sulla quale attendiamo anche i contributi di chi vorrà farlo. come sempre anche in questo caso anche degli enti, anche dell'università, perché noi siamo fondamentalmente convinti che anche l'università possa aprirsi ai territori intorno e forse una visione di diffusione anche dei centri del sapere possa essere una diffusione che guarda all'area vasta, non solo in termini che spesso se ne parla nella politica e nei comuni, si parla di area vasta perché qualcuno vuole conquistare qualche altro territorio. Invece portiamo i servizi, portiamo le opportunità, portiamo anche l'università magari in questi territori. Ci rimangono pochi secondi, Sindaco Ferrucci, cosa ci rimane da dire? Il Parco di Oliveto Terme magari diciamo qualcosa anche su quello? Sì, il Parco di Oliveto Terme sta andando molto bene i lavori e con una certa velocità e questo ci fa piacere, ma anche qualità. Quindi mi immagino che, penso che dalla primavera all'estate dell'anno prossimo sarà pronto e fruibile per tutti. Le Cateratte Ximeniane, ringrazio qui l'architetto Bertolini che veramente ci sta dando una con grande… io mi scuso perché l'ho preso settimanalmente, ma insomma… Cerchiamolo ai non tisani. E partirà nei lavori penso nei prossimi due o tre mesi. Cosa sono le Cateratte Ximeniane? Cateratte Ximeniane è un importante manufatto idraulico fatto da Leonardo Ximenes che conoscete senz'altro e che sono state appunto… abbiamo avuto un finanziamento importante dal Ministero sempre Franceschini di 8-900 euro. Ma sono funzionali o sono semplicemente… Sono estetiche e dentro ci vorremmo portare il Museo dell'Acqua e della Ceramica per San Giovanni. Ultima cosa, l'ex scuola elementare sulla piazza di Vicopisano, fondi presi insieme con un progetto regionale molto importante ecosistema culturale, quasi 2 milioni di euro e anche qui come diceva Massimiliano con un percorso partecipativo, comincerà proprio il percorso partecipativo nei prossimi mesi, insomma tante belle cose in arrivo. Grazie davvero a tutti voi che avete fatto sì che questa puntata si realizzasse in questo luogo davvero particolare perché veramente penso che sulla Rocca della Verruca ce la ricorderemo, questo luogo incredibile. Grazie a Massimiliano Ghimenti, Sindaco di Calci, a Matteo Ferrucci, Sindaco di Vicopisano, al Professor Marco Macchia, Docente di Chimica Farmaceutica, ma qui in qualità di delegato del Rettore per i rapporti con il territorio dell'Università di Pisa, ad Andrea Bertolini, Sovrintendenza delle Belle Arti di Pisa e Livorno, delegato per il Monte Pisano. Grazie al Circolo Culturale Filippo Mazzei, grazie a Max Paoli, grazie a Roberto Gabriele, a Massimo Bazzi naturalmente che organizza tutto perfettamente, a Teresa Sicchetti, grazie a tutto il gruppo della Pisaniana. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.